Quando lo staff di Madonia Iart mi ha sottoposto, tra le altre, nelle proposte dei murales da fare per questa manifestazione e la storia di Giulio Gelardi, l'uomo della manna, mi ha subito colpito. Non conoscevo ancora questo prodotto naturale, mi ha incuriosito, ho approfondito le ricerche e ho deciso di dedicargli il mio murales, perché la manna è un simbolo del luogo, ed anche lui lo è, per tutta la regione e per le Madonie. È un simbolo delle Madonie e ogni simbolo del territorio dovrebbe essere celebrato in vita, non solo dopo. Quindi vorrei col mio murales far sì che sia riconosciuta la sua storia adesso, da tante persone in tutto il mondo. La mano in primo piano è più grande del naturale, si vede, ed è ricca di dettagli, perché volevo mostrasse quanto è duro il lavoro manuale, una sorta di messaggio. Questa esperienza è stata fantastica. Il posto mi ha ispirato un sacco. Le facciate delle case, le trame, i colori, l'orizzonte del mare, la natura, ci sono molte specie di piante e di uccelli qui. Tutto questo ha ispirato il mio lavoro. Non ho mai visto nulla di simile, il mio lavoro. È stata un'opportunità unica. l'opportunità che ho avuto.